A1 in direzione Roma A1 in rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico, aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800 570530. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!